Ci siamo spostati al touchscreen, diamo un'occhiata alle ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Partiamo da Repubblica, il caso Vannacci, Salvini si schiera con il generale, Isola Crosetto comprerò il suo libro, no al grande fratello, il PD Meloni dica con chi sta, telefonata molto cordiale tra il leader leghista e il generale, il vice premier in diretta a Facebook. Prima di giudicare, voglio leggere, il generale ha salvato vite. Poi andiamo su Sky TG24 con questa triste storia che proviene da Genova, presa a sassate ai giardini da uno sconosciuto. Donna gravissima, la vittima ha 61 anni, è in coma e i medici stanno valutando la situazione, gli agenti delle volanti hanno arrestato l'aggressore. Un uomo di 34 anni senza fissa dimora e poi la stampa, Palermo stuporò di gruppo, l'ex minorenne confessa, c'ero anch'io ma gli altri tre dicono che lei era d'accordo, un video dimostrerebbe che il più giovane è stato tra i più violenti. Intanto la procura fa ricorso contro la scarcerazione. Concludiamo con ansa.it, CNR, tutti i ghiacciai alpini sopra lo zero termico, questo appunto l'allarme del CNR, tutti i ghiacciai alpini a tutte le quote sono sopra lo zero e la situazione è abbastanza critica. Bene, queste erano le principali notizie dall'Italia e dal mondo, ora spazio al meteo a cura di Perino Coppola.